Il frigorifero con tecnologia Dynamic Frost Free rappresenta l'evoluzione dei frigoriferi no frost di tipo tradizionale. A differenza dei sistemi no frost tradizionali che hanno un solo circuito, il Dynamic Frost Free è dotato di due circuiti refrigeranti separati, così nel congelatore non si forma brina. E il vano frigo conserva meglio e più a lungo gli alimenti freschi. Questo perché al suo interno c'è un più elevato livello di umidità, fondamentale per la corretta conservazione di tutti i principali alimenti come frutta, verdura, carne e pesce.